Midorikawa-sama? Midorikawa-sama, non è? Ciao, Damiani Sanai. Sì, sì, lo capisco un po'. Ah, va bene. Mi ha detto di parlare di te, ma di parlare di me? Mi ha detto di parlare di me? Sanai-san, tu, che bello. Bella, io, no, no. Mi fa rossire tutti questi complimenti. Oh, 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 oh. Cattolino, ne, a nata. Ah, Sanai-san, se vi,紹介したい toga, il no. Presentate me. Ho, 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 ho. Amamiya-san. Amamiya-san. Ah, Damiani Sanai-san. Buongiorno. 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 Un mondo libero. Saremo immortali come diamanti. So, eenni utsukshiku, tamashi no nai, gejutsakukhin no yoni. Belli, ineterni, come opere d'arte senza... Senza anima? Ma è una cosa crudele ed è impossibile. Vero? Vero? Standardusoso io. Ah, amamiya, yoji gattan janai? Un impegno? Yoji desette. Sono...mata o haidekimasu wa yone? Mochirondesio. Sanai-san. So, ezzah...mata. No, no, no. Sanai-san. No, 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 no. Sì Guardi, non è possibile che abbia lasciato le chiavi qui. Non è possibile che abbia lasciato le chiavi. Non è possibile che abbia lasciato le chiavi. Spermesso. Spermesso. Buonasera. Spermesso. Buonasera. 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 Buongiorno a tutti. Questa è? La mia figlia è già a dormire? La mia figlia è già a dormire? Ora. Bene, vuol dire che andrò un po' a dormire anch'io. Signora Akechi, lasciamo tutto nelle sue mani. Buongiorno Akechi. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Ancim? Tranquillo? Certo che sono tranquillo. La pago più di un milione di yen al mese. Vorrei ben vedere. Andiamo, amore. Buonasera.